Aio! Buongiorno a tutti da Polentoni in Giappone, come state? Ci troviamo ad Olbia. Sì signori, siamo in Sardegna e adesso appunto siamo ad Olbia. Ieri siamo arrivati con l'aereo Volotea, ragazzi, che inizialmente il volo era previsto dal 2 di giugno fino al 7. Poi ci è stato cancellato l'andata, cancellata l'andata, potevamo scegliere tra il primo e il 3. Abbiamo deciso di anticipare, ma avendo già prenotato l'hotel per il 2, abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa, una soluzione aggiuntiva. Abbiamo trovato una notte qui in centro ad Olbia, posizione comoda, questo Airbnb non troppo, due rampe di scale, valigioni, insomma, una rottura di balle. Niente, adesso abbiamo fatto un po' il check out, sono le 8, Tommy ieri si è svegliato, è andato a letto praticamente alle 8, si è svegliato alle 5 e mezza stamattina. E oggi pomeriggio, quando Tommy qua ha finito di giocare, ci dirigiamo verso Alghero, da stanotte fino al 7, dormiremo ad Alghero, andremo a trovare i nostri amici di Blueberry Travel. Siamo venuti praticamente in Sardegna apposta per incontrare loro e niente, adesso siamo qua al porto di Olbia, vi faccio vedere un po'. Prima volta che vengo ad Olbia, credo, ero venuto in Sardegna nel 2010, qualcosa del genere, in vacanza, ma ero andato, non mi ricordo, sono passati tanti anni. Comunque adesso qua c'è Tommy, ha fatto amicizia con una bambina, c'è signore di spalle, e questo è il lungomare. Oggi ci sembrerebbe esserci brutto tempo nuvoloso, sono le 8 e mezza adesso, l'orario in cui sto filmando questo video. Ieri siamo arrivati che c'era una bellissima giornata di sole, non siamo nemmeno usciti dall'appartamento, ieri abbiamo fatto il check-in in questo piccolo appartamento, lasciamo stare. Poi Tommy stava già dormendo, quindi cosa abbiamo fatto? La signora è rimasta in camera con Tommy, io sono uscito a fare del take-out, sono andato a prendere qualcosa da mangiare, abbiamo mangiato in camera, stamattina appunto sveglia presto, colazione. Ciao Tom, vieni qua. Ciao Tommy, ciao. Ciao Tommy. Diti ciao Tommy. Ciao. Diti ciao Tommy. Ciao, si stavi giocando con la bambina, stavi giocando con la bambina? si dopo aver giocato quasi un'ora con l'altra bambina siamo fermati a bere il caffè macaroni con pistacchio c'è pistacchio dentro lavar le mani prima mangi quello se lo mangi tutto e ti piace mangi anche il secondo buono buono Tommy come è? il primo cioccolato nella sua vita buono adesso recuperi tutte le forze ora io finché sistemavo le valigie in macchina la signora è stata approcciata da questo signore guardate che le ha offerto un caffè grazie nonno grazie nonno tranquilla c'è nel senso anche Tommy tieni in braccio Tommy ah Tommy sei sconosciuto così? no no fortuna è andata bene ma adesso facciamo una passeggiata qui nel lungomare di Olbia devo stare attento qua a Tommy che corre Tommy manina papà quindi tutti gli occhi su Tommy al prossimo video dalla Sardegna ciao da Polentone ciao ciao